Musica Al via le operazioni di recupero del peschereccio semi affondato al porto di Fano, in azione anche i sommozzatori. Da domani a Pesaro i tamponi di massa per studenti e personale scolastico, illustrati gli orari e le postazioni. Il sindaco commenta, non vogliamo fare polemica, speriamo che la regione torni sui suoi passi. Cerimonia dedicata alla Shoah, in prefettura a Pesaro consegnate otto medaglie d'onore alla memoria di cittadini internati nei lagre nazisti. Sarà pronta entro maggio la nuova pista ciclabile sul lungomare di Ponte Sasso, sopra luogo dell'assessore Tonelli che lancia un appello ai cittadini, non entrate nel cantiere, è pericoloso. E' ufficiale Stefano Marcheggiani, eletto nuovo consigliere delegato. L'annuncio del sindaco serie all'ex assessore, affidati in carichi per la fabbrica del Carnevale, il teatro romano e la zona archeologica sotto piazza 27. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Sono iniziate oggi pomeriggio le operazioni di recupero del peschereccio Angelo Padre, semi affondato lunedì notte al porto di Fano. Ha seguito per noi i lavori che sono stati coordinati dalla Guardia Costiera, Letizia Marchionni. Sono partite questo pomeriggio intorno alle 14 le operazioni per il recupero del peschereccio Angelo Padre, semi affondato nel porto di Fano. L'imbarcazione di rientro da una battuta di pesca aveva lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto lunedì notte, segnalando un'avaria. Il natante, di proprietà di un uomo del posto, probabilmente a causa di un trafilamento d'acqua, che ne ha parzialmente compromesso la galleggiabilità, era stato ormeggiato alla banchina lavori per poi adagiarsi sul fondale dove è rimasto fino ad oggi. Le operazioni di recupero del peschereccio, effettuate da una ditta privata, sono proseguite tutto il pomeriggio, coordinate dai militari della Guardia Costiera Fanese, che ha subito provveduto, sin da ieri, a circoscrivere la fuoriuscita di carburante dalla barca, disponendo delle panne ganneggianti fornite dalla protezione civile. Il gasolio, fuoriuscito in mare, è stato poi aspirato nel pomeriggio con una pompa. Per sollevare il natante, una unità da pesca lunga circa 20 metri e pesante 60 tonnellate, fissata con delle fasce da una squadra di sommozzatori, è stato necessario l'intervento di due gru. Il peschereccio è stato poi svuotato dall'acqua imbarcata con delle pompe elettriche. Domani mattina la barca sarà poi trainata verso lo scallo di Alaggio, dove sarà messa terra. Sarà poi affidata al cantiere per l'attività di recupero. Nei prossimi giorni partirà l'inchiesta per capire le cause e le dinamiche dell'accaduto. E adesso i tamponi, domani a Pesaro prenderà il via lo screening per le scuole superiori. Allora vediamo nel servizio di Angelica Panzeri tutti i dettagli dell'operazione che coinvolgerà più di 8.000 studenti e 1.100 tra docenti e personale scolastico. Partirà domani, giovedì 28 gennaio a Pesaro, lo screening per studenti e personale delle scuole superiori. Una grande operazione di prevenzione promossa dal comune assieme ad Ail, Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes e Provincia e che coinvolgerà 8.478 studenti per un totale di 367 classi, 1.117 membri suddivisi tra docenti e personale ATA, 35 tra medici e infermieri ed altri 50 volontari tra Croce Rossa e Protezione Civile. L'orario sarà 8.30-13.30, gli istituti coinvolti saranno il Cecchi, Mengaroni e Campo Scolastico. Ovviamente al Campo Scolastico andranno al Liceo Scientifico tutti gli istituti che fanno capo al Campo Scolastico, al Mengaroni andrà la Nuova Scuola e il Liceo Mammiani, quello che è dislocato centro e mare. Nella giornata del 28 gennaio sarà possibile per il personale ATA e il personale docente dalle 14.30 alle 18.30 effettuare il tampone al Campo Scolastico, sempre alla Palestra dello Scientifico. Sarà necessario compilare il modulo per i ragazzi minorenni e non solo, ma anche per il personale ATA e il personale docente. Per noi è stato un grande risultato, invito tutti veramente a partecipare, pensiamo non solo a noi stessi, ma pensiamo alle tante persone che ci stanno vicino. L'operazione sarà ripetuta venerdì 29 gennaio, gli screening saranno eseguiti al mattino al Campus Santa Marta e Mengaroni. Negli stessi siti è in programma anche il secondo turno, previsto per il 2 febbraio, mentre il 3 febbraio si terranno i test al Campus Cecchi e Mengaroni. I nomi degli eventuali positivi individuati verranno trasmessi da Ail Pesaro direttamente all'Asur, che attiverà il classico protocollo di isolamento. È una grande operazione questa, credo che il merito vada soprattutto al Comune, ma per quanto riguarda l'Ail il merito va soprattutto ai nostri angeli, che sono questi medici che hanno accettato subito questa proposta che è arrivata dal Comune e poi anche dal loro Presidente. Il Sindaco Matteo Ricci parla di grande operazione sociale che permetterà agli studenti di rientrare a scuola in sicurezza. Se ci sono dei ragazzi asintomatici che vanno a scuola, inconsapevolmente rischiano di infettare altri ragazzi e le loro famiglie. Quindi è un servizio importante che facciamo grazie a soggetti straordinari che si sono messi a disposizione. Tutti sanno che un'iniziativa che poteva e doveva fare la Regione, la poteva fare in tutte le marche, perché gli studenti marchigiani sono tutti uguali e hanno tutti la necessità di andare a scuola in sicurezza. Parte tecnico dell'operazione, Aspes, che ha già consegnato la prima tranche di tamponi, circa 4.500. Già questa mattina sono stati consegnati al personale del Comune che assieme ai dispositivi di protezione individuale che i volontari dell'Aile e della Croce Rossa utilizzeranno per fare gli screening nelle scuole. E anche oggi la nostra Regione registra un elevato numero di decessi per coronavirus. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 17 persone, tutte con patologie pregresse. Tra le vittime anche un uomo di 72 anni di Pesaro. I nuovi positivi sono 466, di cui 98 nella provincia di Pesaro Urbino. I ricoverati per Covid sono 8 in più rispetto a ieri. Negli ospedali delle Marche ci sono 72 pazienti in terapia intensiva e 148 quelli in semi-intensiva. Cerimonia ricca di emozioni questa mattina in Prefettura Pesaro in occasione del giorno della memoria. Il prefetto Vittorio Lapolla ha consegnato 8 medaglie d'onore alla memoria di cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il servizio di Angelica Panzieri. Ci direvamo tantissimo quest'oggi, nonostante la pandemia e il portiere è un numero molto limitato di persone. a celebrare il giorno della memoria in presenza. Abbiamo il dovere di preservare la memoria rispetto a quanto accadde in quegli anni. Con queste parole il prefetto Vittorio Lapolla questa mattina in Prefettura, in occasione della giornata della memoria, ha voluto ricordare i cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Da qui è passata la consegna delle 8 medaglie d'onore alla memoria di 8 cittadini residenti in 5 comuni della provincia. È stata molto toccante anche la testimonianza resa da uno dei figli di queste persone, che ha oltretutto anche evidenziato come il suo defunto padre ancora purtroppo in Germania non ha avuto la possibilità di poterlo riportare in Italia. Insomma, testimonianze importanti. Ovviamente è una cerimonia che a noi serve anche per onorare tutte le vittime di quella che è stata la più grande tragedia della storia dell'umanità e ancora di più per poter preservare e tramandare la memoria, il ricordo e anche la conoscenza di quell'epoca alle nuove generazioni. All'iniziativa hanno preso parte tutte le massime autorità provinciali, nonché i sindaci dei rispettivi comuni di residenza dei deportati. La città si è unita simbolicamente per onorare la giornata della memoria istituita proprio in ricordo di quel 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche abbatterono i cancelli di Auschwitz. Le prime tre medaglie sono state consegnate ai figli di tre cittadini peseresi, Lazzaro Benvenuti, Luigi Foschi, Giuseppe Miccoli. L'emozione è tanta, però era doveroso partecipare a questo evento anche per trasmetterlo ai ragazzi, ai nipoti e a quant'altro. Un evento così non deve più succedere. Il babbo ha sofferto, come tutti gli altri, fame, freddo e nostalgia. E poi ancora le altre sono andate a ricordo di Arduino Martinelli di Urbino, Leandro Benini di Fano, Tommaso Fabriani di Fano, Angelo Albertini di Gradara e Attilio Montesi di Mondavio. A rendere ancora più commovente l'atmosfera, la performance degli studenti del Liceo Scientifico Musicale Marconi che si sono esibiti con musiche, letture e canzoni dedicate alla Shoah. Il dovere di non dimenticare, il dovere di perpetuare la memoria di ciò che è accaduto inquadrandola correttamente dal punto di vista culturale e della correttezza storiografica, affinché i ragazzi sappiano quali sono i contesti in cui certe cose accadono, affinché costruiscano una propria memoria che deve necessariamente essere una memoria critica che sa declinare il passato con il presente, affinché siano cittadini consapevoli. E noi vediamo dalle loro emozioni, da quello che fanno, da come rielaborano ciò che viene loro proposto che è un tipo di lezione che funziona, perché i testimoni, le testimonianze, le visite, tutte le infinite attività che le scuole mettono in atto sono proprio finalizzate a questo, a renderli consapevoli di ciò che è accaduto affinché non si ripeta mai più. A conclusione della mattinata è stato proiettato il video realizzato negli ultimi sei anni da istituzioni, studenti e docenti, compresi quelli del conservatorio. Avevano salire in macchina e ripartirlo. Questo è l'episodio più doloroso che ricordo della mia infanzia. Stefano Marchegiani è stato eletto nuovo consigliere delegato. L'ufficialità è stata data questa mattina dal sindaco di Fano Massimo Seri. All'ex assessore e vice sindaco sono state affidate le deleghe inerenti ai progetti IT, gli investimenti territoriali, la fabbrica del carnevale, la valorizzazione del teatro romano, lo studio e le indagini sulla zona archeologica sottostante piazza 20 Settembre. Il suo spessore e il suo bagaglio di conoscenza, spiega il primo cittadino, ci permetteranno di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città. L'affidamento delle deleghe verrà concretizzato domani, 28 gennaio, durante l'assise del Consiglio Comunale. Proseguono spediti i lavori per la nuova ciclabile sul lungomare di Ponte Sasso a Fano. Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo sul cantiere insieme agli assessori comunali. È stato riaperto il cantiere del tratto fanese della pista ciclabile fino a Senigaglia. L'opera che rientra nel grande progetto della ciclovia adriatica sarà pronta in pochi mesi. A confermarlo è l'assessore Fabio Latonelli, che insieme ai colleghi questa mattina ha fatto un sopralluogo sul lungomare di Ponte Sasso. Lunga poco più di un chilometro e larga 4,5 metri, l'infrastruttura ha un costo complessivo di 1.100.000 euro, di cui 560.000 della regione e 540.000 del comune di Fano. Abbiamo iniziato a settembre, sono iniziati dal confine di Marotta e sono proseguiti verso il rio Crinaccio. Stiamo assistendo la ditta che sta facendo i lavori, sta facendo il sottofondo della ciclabile, dopodiché proseguirà con questo grosso marciapiede che si unirà a quello che abbiamo già visto a Marotta. I lavori, prosegue l'assessore, dovrebbero finire nel mese di maggio, così da inaugurare la ciclabile per la stagione estiva. Questi fondi sono stati finanziati gran parte dall'Europa e il comune ha fatto un'aggiunta perché ricordiamo che qui sotto abbiamo già lavorato sulle fognature che prima non esistevano e adesso finalmente siamo riusciti a darle anche al quartiere, ai residenti di questa zona. Un lavoro di qualità, conclude Tonelli, che ha anche una forte valenza turistica. L'opera infatti, oltre a riqualificare il territorio, andrà a beneficio del cicloturismo, un settore in forte espansione. L'assessore vuole lanciare anche un appello alla cittadinanza? Sì, un avviso ai residenti della zona perché dai tecnici del cantiere c'è giunta notizia che persone entrano all'interno del cantiere buttando giù delle reti o anche solo passeggiando, attraversando questa zona che in questo momento è anche un po' pericoloso. Quindi chiedo di avere un attimo di pazienza perché tra qualche mese i lavori finiranno e poi sarà fruibile e usufruibile da tutti. Quindi chiedo appunto di non entrare dentro il cantiere perché questa cosa non va bene e aspettiamo insomma il momento dell'inaugurazione per poi passeggiarci tutti insieme. Il sindaco dopo la bocciatura Altar del nuovo casellino Fano Nord così come progettato ha sollecitato la regione Marche perché si attivi nei confronti di società autostrade e del ministero delle infrastrutture per garantire lo svincolo che potrebbe portare dei miglioramenti alla viabilità. La mancata realizzazione, ha detto Seri, è una violazione degli esiti delle conferenze di servizi e degli atti legati all'ampliamento alla terza corsia della 14. Inoltre sarebbe un danno non solo per la città di Fano ma anche per tutto il territorio provinciale. Pertanto, conclude il sindaco, invitiamo la nuova giunta ad attivarsi verso gli antipreposti sollecitandoli a concludere la fase di progettazione con modalità alternative rispetto a quelle non autorizzate. E da finire ci spostiamo in zona trave perché questa mattina è stata posizionata la nuova segnaletica stradale che indica il cambio di viabilità. Così come aveva annunciato ieri sera l'assessore Fabiola Tonelli è iniziata quindi la fase sperimentale del progetto che prevede l'inversione del senso di marcia di Via della Fornace. La strada sarà percorribile dall'interquartiere in direzione fenile e non viceversa e di Via Montenerone che tornerà al precedente senso di marcia. L'altra novità, come abbiamo già detto, è una mini rotatore di New Jersey tra Via della Trave e Via della Fornace. A Cartoceto invece il Comune ha deciso di aiutare le famiglie in difficoltà con un contributo per mense e per trasporti scolastici. Contrastare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria e aiutare chi si trova in difficoltà. Con questi obiettivi il Comune di Cartoceto ha deciso di stanziare un contributo per le rette dei servizi scolastici. Ad annunciarlo è il Sindaco Enrico Rossi che ricorda anche un altro importante intervento, l'ampliamento del plesso del capoluogo. Lo abbiamo già fatto in realtà con una decisione che abbiamo assunto come giunta comunale sul finire del 2020 e abbiamo deciso che per i primi mesi del 2020, in modo particolare gennaio e febbraio, dove erano rimaste sospese le rette per i servizi scolastici principali, vale a dire la riflessione scolastica, sia per tutte le scuole dell'infanzia che per la scuola primaria del capoluogo, il trasporto scolastico per tutte le scuole e anche le rette del centro per l'infanzia, cioè il nostro asilo nido comunale, sostanzialmente abbiamo optato per questo contributo, sostanzialmente per stanziare queste risorse che azzerano completamente le rette dovute alle famiglie. Questo ovviamente per andare incontro, per supportare meglio le difficoltà delle famiglie direttamente conseguenti rispetto alle difficoltà economiche emerse a seguito della pandemia sanitaria. E sindaco, tra le novità per la scuola ci sono anche i lavori a Ragnetti? Sì, si tratta di un investimento molto importante di circa 150 mila euro che l'amministrazione ha deciso di fare sul plesso scolastico del capoluogo. In questo momento, nella prossima primavera, questo ampliamento consentirà di recuperare la palestra al suo utilizzo originario perché al momento invece nel rispetto dei protocolli Covid è invece utilizzata quale allargamento del refettorio. Nel futuro prossimo l'auspicio è che i soggetti interessati e competenti possano utilizzare questo ampliamento per ampliare e diversificare l'offerta formativa di quel plesso. La Regione Marche sostiene la candidatura della città di Ascoli Piceno a capitale italiana della cultura per il 2024. Il presidente Acquaroli e l'assessore Giorgia Latini hanno risposto così alla richiesta arrivata dal sindaco Marco Fioravanti. Dopo l'annuncio però è arrivato anche il commento di Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla cultura del Comune di Pesaro. Da un lato siamo pronti e felici di giocare la partita con uno sfidante marchigiano, dall'altro siamo increduli. Al di là della caduta di stile, continua Vimini, iniziamo a pensare che da parte della Regione ci sia la volontà di ostacolare Pesaro. Oggi abbiamo provveduto a mandare ad Acquaroli la nostra richiesta di sostegno, anche se non avevamo capito che si trattasse di una gara di velocità. Cambiamo argomento. Il fanese Marco Pagnetti è stato confermato presidente del Comitato Provinciale della CSI. Matteo Del Vecchio. Una rielezione scontata ma di certo non meno importante, specialmente in un momento come questo dove lo sport, in primis quello amatoriale, sta pagando a caro prezzo gli effetti della pandemia. Il 38enne fanese Marco Pagnetti è stato confermato alla guida del Comitato Provinciale CSI di Pesaro Urbino con sede in Fano per il quadriennio 2020-2024. A San Cirlo è stata l'Assemblea delle Società di venerdì scorso, alla quale hanno partecipato anche Vittorio Bosio e Tarcisio Antoniozzi, rispettivamente presidente nazionale e regionale dell'Ente, che ancora una volta hanno speso parole d'elogio per un comitato capace di affrontare con serietà e competenza il periodo nero per lo sport, riuscendo addirittura ad aumentare tesserati e società affiliate. Al fianco di Pagnetti per il suo mandato bis ci saranno delle colonne portanti del CSI Fano, a cominciare da Francesco Paoloni, da 36 anni factotum dell'Ente, e poi ancora Diego Casalini, Marco Cepetelli, Samuele Cimarelli, Pietro Giorgi, Andrea Mariotti e Matteo Omiccioli. New entry assoluta Cecilia Furiosi, che riporta le quote rosa nel direttivo dopo la presidenza di Carla Tonelli, poi divenuta suor Carla Tonelli, risalente agli anni Ottanta. Saluta il CSI Fano invece dopo 12 anni da consigliere Giacomo Mattioli, per cui è pronto l'incarico di presidente regionale. Tra poco trasmetteremo una iniziativa organizzata dalla Regione Marche e in occasione della Giornata della Memoria. Domani invece alle ore 7 in diretta puntuale tornerà la lettura dei giornali con il nostro direttore Marco Ferri. Arrivederci. Grazie a tutti.